volare o cantare nel blu dipinto di blu felice di stare perché non sfruttare i bug alla fine ragazzi non vedo perché no dove sei c'è sta roba ragazzi solo a me poter succedere oddio ma dov'è no no raga fate un meme fate un meme su sta cosa solo nei video di and the fire dragon possono succedere queste cose ma no non posso ucciderlo adesso seriamente questo è un problema no dai questa è una roba veramente esilarante ecco non capisco perché non farmelo uccidere vabbè non posso ucciderlo ragazzi no ti prego ok comunque stai pure lì a volare noi ci vediamo